L'approccio è sicuramente il nostro è stato prevalentemente scientifico appunto perché è nell'ambito dell'indirizzo di studio produzioni industriali per il Made in Italy, produzioni chimico-biologiche, quindi è proprio l'indirizzo specifico per avere le conoscenze e le competenze giuste per poter affrontare tematiche così complesse. Nasce nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, ci sono state appunto delle ragazze che hanno frequentato come stagiste la farmacia appunto del dottor Salvi, siccome appunto il dottor Salvi è rimasto piacevolmente appunto diciamo colpito dalla preparazione di queste stagiste ha voluto appunto conoscere meglio questo nostro indirizzo di studio e quindi proporci appunto questa iniziativa. Io per tanti anni sono stato presidente dell'ordine dei farmacisti e una delle mie attività principali era quella di divulgare l'uso delle sostanze stupefacenti, l'uso delle sostanze stupefacenti per uso terapeutico ovviamente perché l'Italia aveva dei ritardi molto importanti. Abbiamo cercato di avere tutta una serie di messaggi di poter portare al grande pubblico ma ai giovani in particolare questo tipo di problematica e abbiamo inventato in un certo periodo della nostra storia il fatto di legare alle sostanze stupefacenti la problematica vissuta nei film. Abbiamo chiamato questo progetto droga nella cinematografia e abbiamo presentato al comune di Pesaro. Devo dire con molta franchezza che questo è un argomento molto delicato e generalmente si tende a non affrontare direttamente. Ovviamente noi lo affrontiamo in una maniera diciamo scientifica senza entrare nell'aspetto socio-sociale perché se no andiamo ad invadere campi diversi e viceversa. Questa esperienza è stata talmente importante e bella che ha avuto anche un riscontro a livello europeo nel senso che delle ragazze di un istituto della provincia valenziana hanno fatto la stessa esperienza della nostra farmacia con gli stessi risultati che fa capire che gli istituti professionali hanno una valenza professionale molto elevata. La collaborazione ha suscitato ulteriormente notevoli interessi tale da coinvolgere altri partner come l'associazione CARMA, CARGiver Marche, nelle persone del comitato scientifico il dottor Curina, il dottor Salvi che fa parte del comitato, il dottor Di Luca e anche l'università Alma Mater del Studiorum di Bologna, nelle persone del dottor Tumiati e del dottor Banzolini. È stato organizzato appunto uno seminario rivolto soprattutto alle alunne e alle alunne delle classi quarte e quinte. Ho cercato di dare, far vedere come queste droghe nascono in campo mistico e religioso, come i monaci utilizzavano sostanze stupefacenti per cercare, era una ricerca della trascendenza, quindi una ricerca di qualcosa di più, mentre oggi purtroppo i ragazzi utilizzano queste droghe per una fuga dall'immanenza. E quindi cercare di legare quello che è stato l'origine di queste sostanze fino ad arrivare all'uso oggi e abuso che sicuramente non era il senso della scoperta e della ricerca di queste sostanze. Teniamo presente che anche all'inizio erano sostanze utilizzate in campo medico. Per quanto riguarda le piante, ho messo in rilievo che le piante oggi conosciute, che possono fornire dei principi attivi, droganti, sono più di mille, ma ce ne sono tantissime altre che ancora neanche conosciamo. E quindi, come ogni pianta, d'altronde, cerco di mettere sempre in rilievo questa cosa qui, può avere vari aspetti. Oltre all'aspetto nutrizionale può avere un aspetto farmaceutico, medico, di terapia, può avere un effetto drogante, può avere un effetto tossico. Tutte queste funzioni ci sono in tutti i principi attivi delle piante, dipende poi dalle dosi e dall'uso o abuso, come avete detto prima, che si fa.